Buongiorno Vado, oggi voglio parlare soltanto di Linux, puntata totalmente dedicata a news intorno al mondo Linux. Prima una piccola considerazione che mi ha triggerato qualche articolo che ho letto durante il weekend sull'AI, sì parlo di nuovo di intelligenza artificiale, perché ho letto qualche cosa riguardo l'autotune del prompt engineering, cioè di tool in realtà di AI, sempre LLM, che intervengono sui prompt per cambiare i prompt, per renderli migliori, cioè per creare, per scrivere dei prompt che siano ancora più pieni di significato, ancora più utili, ancora più qualitativamente migliori per altri large language model o per gli stessi LLM che poi vanno a generare quello che vogliamo, i testi, le immagini, i video. Quindi intervengono ulteriori livelli di astrazione rispetto a quello che noi abbiamo scritto come prompt iniziale, generati da un'IA che li va a modificare, li va a arricchire, li va a cambiare. Questo vuol dire che noi perdiamo ancora di più il controllo sull'artefatto che vogliamo produrre, no? Che potrebbe sembrare quello che inizialmente pensavamo di voler ottenere e magari ci accontentiamo perché o perdiamo il nostro focus iniziale vedendo l'artefatto, oppure insomma diciamo che è un'approssimazione che ci va abbastanza bene. E su questo poi leggevo la considerazione di un C-level, di un livello abbastanza alto, non mi ricordo di quella azienda, ma molto grande, che parlava di AI come di un ulteriore livello di astrazione. Sapete che i livelli di astrazione sono quelli che in informatica vengono definiti i vari livelli per cui ci allontaniamo dall'hardware, no? Cioè noi scriviamo codice che non viene letto, interpretato direttamente dall'hardware, ma ci sono vari livelli in mezzo che compilano il codice, lo traducono, lo trasformano in altri linguaggi a livello sempre più basso fino ad arrivare al codice eseguito dalla macchina, no? Man mano che ci allontaniamo dall'hardware, il linguaggio diventa più simile al linguaggio umano e questi vengono definiti livelli di astrazione. In questo articolo l'autore faceva riferimento all'AI come un ulteriore livello di astrazione e lo faceva per tranquillizzare, diciamo, quelli che pensano che l'IA sostituirà il lavoro dei programmatori nei prossimi anni, parlando di programmatori come di figure che si spostano verso l'architettura di applicazioni e quindi la capacità di tradurre dei requisiti in istruzioni, in domande all'hardware, domande però che possono essere formulate in linguaggio umano, quindi astraendo ulteriormente l'ultimo, il livello più alto che potete immaginare dell'astrazione e della programmazione. Ma secondo me questo modo di intendere l'AI è impreciso, perché l'AI non è un livello di astrazione che poi prende il nostro input, lo migliora e lo passa a un livello più basso. L'AI funziona in modo statistico, prevede le prossime parole, prevede parole da mettere insieme che abbiano un senso logico, statistico rispetto al nostro prompt, ma non ha nessuna idea di cosa abbiamo scritto, cosa stiamo scrivendo, cosa sta generando. Semplicemente mette insieme delle cose che hanno dei pesi matematici, nel caso della programmazione in un linguaggio che gli abbiamo richiesto, tra quelli supportati, tra quelli inclusi nel large language model, dopodiché il codice che otteniamo è il nostro primo livello. Ma non è detto affatto che quel codice sia esattamente quello che volevamo chiedere alla macchina, quello che volevamo scrivere. Quindi se noi non siamo programmatori, non siamo in grado di capire quel codice e non possiamo essere certi che quel codice rappresenti la nostra richiesta. Quindi l'AI in questo senso non è un livello di astrazione ulteriore che consente a chiunque di parlare con una macchina per poi generare codice che la macchina interpreta a basso livello, ma è semplicemente un modo di provare a generare un draft di un codice che statisticamente potrebbe essere corretto, c'è una buona probabilità che sia corretto, ma non è assolutamente possibile stabilire che quel codice sia l'intento originale dell'utente a quel punto, non più programmatore, dell'hardware, del computer. Quindi ecco, questa è la mia considerazione. Insomma, AI non credo che si possa definire, almeno ad oggi, un livello di astrazione ulteriore sulla programmazione. Il programmatore rimane sempre quello che scrive codice o controlla che il codice sia scritto correttamente, o controlla che non ci siano bugga, o che sia sicuro, o che sia aderente alle norme. Insomma, la figura del programmatore rimane imprescindibile. Certamente il programmatore che scrive in modo non consapevole fa la stessa cosa che farebbe un AI e in questo senso è certamente sostituibile. Però ecco, questa è un po' la considerazione che mi è venuta in questo weekend. Non so se sono riuscito a fare un discorso sensato, perdonatemi se non è così, però comunque l'AI farà parte anche della prima news di oggi in cui parleremo di Gen2, poi andiamo avanti a parlare di APT, una nuova versione di APT, e poi qualcosa che Linus Torvalds ha voluto inserire nel nuovo kernel Linux 6.9, che secondo me è abbastanza frizzantile. Vai! Allora, oggi 22 aprile, lunedì tra l'altro, quindi buon inizio di settimana. Lunedì di solito una puntata che ascoltate in pochissimi, non so perché, da statistica, però vabbè, la faccio lo stesso. Ho raccolto un po' di news sul mondo Linux, un po' di cose che ci tenevo a dire, e vorrei partire con Gen2, perché Gen2 tra l'altro è la distribuzione Linux a cui sono più affezionato, è stata la prima che mi ha fatto entrare nel mondo Linux. Ho due news su Gen2, la prima è molto piccolina. Gen2 adesso entra nella famiglia, nella organizzazione non profit, che si chiama Software in the Public Interest. è una associazione non profit americana che in pratica consente a vari progetti open source che sono sotto il cappello di questa organizzazione di ricevere donazioni e di essere appunto gestite donazioni in modo piuttosto semplice e a chi dona sul territorio americano consente di scaricare questa donazione dalle tasse, che è una cosa piuttosto interessante. Quindi adesso Gen2 è entrando a far parte di SPE, quindi Software in the Public Interest, associazione tra l'altro di cui fanno già parte altre distribuzioni Linux e altri progetti open source come Arch Linux, Debian, ma anche LibreOffice, Systemd, Postgres, eccetera. Ecco, entra a far parte di questa famiglia e adesso andrà a spegnere gradualmente la Gen2 Foundation e tutta la parte di raccolta fondi, gestione di fondi verrà spostata su appunto Software in the Public Interest. Se volete trovate anche la news ufficiale sul sito di Gen2, insomma Gen2 Linux diventa un SP Associated Project. Ma la news invece un pochino più frizzante che volevo darvi su Gen2 riguarda l'AI appunto, come avevo detto in introduzione. Ed è una decisione presa dal consiglio di Gen2, cioè un comitato eletto di membri che governano questa distribuzione, ecco, di bannare, di impedire l'accesso alla distribuzione di qualunque codice scritto o anche assistito dalla AI. Questa è una decisione che è stata presa, che era stata proposta già il 27 febbraio, adesso è passata tra l'altro a larga maggioranza, e come spiega Michael Gorni, che è uno dei membri del comitato appunto, dice che questo ban esiste per tre ragioni fondamentali. Uno per proteggersi da potenziali infrazioni del copyright, due per problemi di controllo di qualità, e tre per considerazioni etiche riguardo l'alto consumo energetico che l'AI richiede a livello globale, a livello mondiale, ne abbiamo già parlato anche in passato. E, dice Gorni, questa è una mossa di PR, cioè di Public Relation. Molti sono entusiasti riguardo all'AI, dice Gorni, e penso che molti degli utenti di Gen2 apprezzano il nostro approccio old school al software engineering, dove gli umani sono più importanti della cosiddetta produttività. La mia opinione personale, dice Gorni, è che abbiamo appena iniziato con questo topic, e adesso che abbiamo messo in atto questo ban, vedremo arrivare nuovi feedback, nuove opinioni dai nostri utenti. E quindi potremmo incoraggiare molti membri della community Gen2 a condividere le loro opinioni sull'AI. Naturalmente, poi dice questo articolo che trovo su The Register, fare un enforcing su un ban di questo tipo è particolarmente impegnativo. Anzi, potrebbe non essere possibile. Come facciamo a distinguere il codice scritto da un essere umano e quello scritto da una macchina, a parte naturalmente i casi eclatanti? Secondo il punto di vista di Gorni, l'efficacia del ban non è davvero il punto. Dice Gorni, il nostro goal principale è di rendere chiaro cosa è accettabile e cosa non è accettabile a livello proprio di policy, e quindi chiedere gentilmente ai nostri contributor di rispettare la nostra visione. Dice, aggiungendo che il ban all'AI è principalmente un'estensione delle regole che ci sono già sul codice sotto copyright. E continua, se riceviamo contribuzioni che contengono degli errori davvero strani, del tipo che non sembrano essere causati da un errore umano, allora in quel caso faremo delle domande. Ma credo che questo sia il massimo che possiamo fare per il momento, dice appunto Gorni. Conclude l'articolo, il consiglio ha previsto un futuro in cui potrebbero esserci delle eccezioni per l'AI, specialmente per modelli allenati specificamente su Gen2, perché questo potrebbe in teoria eliminare tutti i dubbi riguardo alla violazione del copyright e potrebbero risultare in codice di maggiore qualità. La seconda news che vi do riguarda APT, sapete il tool da linea di comando per aggiornare i pacchetti nelle distribuzioni Debian-based, quelle basate su Debian come Ubuntu per esempio, e infatti questa news la trovo su MG Ubuntu e si parla di una nuova versione della UI, se vogliamo chiamarla così, ma insomma è una command line, quindi l'interfaccia da righe di comando di APT, che a quanto pare, con la versione 3.0 che è prevista per la fine di quest'anno, con l'arrivo probabilmente di Ubuntu 24.10, ecco, riceverà un restyling grafico anche piuttosto importante e gradito, dice questo articolo, perché sapete, quando voi lanciate un APT upgrade soprattutto, vedete questo muro di testo dove è tutto bianco, è tutto mischiato, in realtà non è mischiato, però è abbastanza facile mischiare le cose e perdere magari il focus su qualche informazione importante come dei pacchetti che potrebbero essere cancellati oppure degli upgrade che poi potrebbero essere breaking e potrebbero contenere delle change che poi vi rendono il sistema instabile o addirittura rotto. Ecco invece adesso, con la nuova versione di APT, verranno utilizzati dei colori per segnalare i pacchetti che vengono aggiunti e quelli che vengono cancellati, quindi in verde i primi e in rosso i secondi, tra l'altro i cancellati vengono messi alla fine dell'output, rendendo più facile riconoscerli perché prima venivano messi all'inizio e quindi se state guardando, questa sarà la nuova command line di APT con appunto le cose colorate, ben distanziate, insomma rende più facile la leggibilità di questo tool e niente, questa era la notizia, quindi potremo avere, già con il 2.9, quindi con una release di APT che diciamo è unstable in questo momento e che prepara il campo per la futura 3.0, se la volete provare potete installare APT 2.9 su una distribuzione come Debian Bookworm se andate a prendere la versione unstable di APT oppure aspettate Ubuntu 24.10 che dovrebbe contenere appunto APT 3.0 e avrete insomma una versione di APT con UI più fresca, più comoda e più aggiornata nella vostra command line. E concludo con la notizia che probabilmente è la più frizzante del trittico che vi ho dato oggi, parliamo di Linux Torvalds e di una modifica che ha inserito nel RC del Linux Kernel 6.9 che è uscita in questi giorni. Questa RC che è la RC4 di 6.9 contiene il solito insomma gruppetto di fix, di bug fix, di aggiornamenti ai driver, alcune mitigazioni per questioni di security come quella su Spectre di cui non vi ho parlato ma insomma se cercate Spectre V2 trovate il nuovo dramma ecco riguardo la vulnerabilità del branch prediction sui processori Intel ma insomma poi eventualmente se vi verranno fuori due due news lo riprenderemo in futuro e cosa succede? Che Linux Torvalds ha deciso di mettere un commit, di creare un commit nuovo su questa RC che non fa niente ma evidenzia un potenziale problema, un problema riguardo l'indentazione. In particolare in un commit che si chiama KCONFIG add some hidden tabs on purpose ha preso un pezzo di codice e ha sostituito degli spazi con un tab in modo che visivamente se leggiamo quel pezzo di codice non c'è nessun cambiamento ma in realtà poi a livello più basso i caratteri non sono più spazi ma sono dei tab e perché l'ha fatto? Per incentivare un approccio più robusto alla detection di tab e di spazi perché i tab nel linguaggio di configurazione del kernel Linux che è KCONFIG appunto sono significativi come già in altri linguaggi come in Python per esempio o in YAML e il tab effettivamente è un carattere significativo e quindi avere dei parser che non riescono in certe situazioni a distinguere tra tab e spazi è potenzialmente un problema Linus Torvalds si è accorto di questo da un commit creato qualche tempo fa che è uno one liner quindi rimpiazza semplicemente una riga in un pezzo di codice che sostituisce un tab con uno spazio e il commit message dice di fare questa modifica proprio per aiutare KCONFIG il parser di KCONFIG a leggere questo file senza errori e quindi Torvalds ha deciso invece di arrabbiarsi pubblicamente come faceva almeno fino al ritiro spirituale che ha fatto nel 2018 per calmarsi un attimino ecco quindi invece di sbottare contro questo tipo di approccio alla programmazione che scrive del codice per aiutare il parser invece di rinforzare il parser stesso ecco ha voluto fare questo commit per rendere evidente che c'è un problema piuttosto insomma grave importante e poi aggiunto anche una spiegazione dicendo assicuriamoci che questa roba sia fixata perché se non riusciamo a parsare i tab come whitespace come whitespace significativo appunto non dovremo nemmeno fare il parsing dei file di KCONFIG e per spiegare meglio qui soprattutto a chi sta guardando il video in questo momento vi faccio vedere il commit di Linux Torvalds eccolo qua vedete che ci sono delle righe sostituite modificate ma apparentemente pare che non ci sia nessuna differenza tra queste righe però in realtà se noi andiamo a adesso vado a copiare queste righe le metto qui che è un convertitore di tabs in spazi incollo il codice qua gli dico di modificare e di convertire i tab in quattro spazi se faccio questa conversione vedete che ecco mi ha convertito questo carattere in esattamente quattro spazi quindi vuol dire che questo carattere qua non è uno spazio ma è un tab questi sono tab quindi il tab qua lo convertiamo in quattro spazi e ci viene visivamente più facile renderci conto della differenza ed ecco il trucco proprio che ha usato Linux Torvalds per farci capire questo problema ecco insomma questa era la news non è niente di che potreste dire no? cioè semplicemente un commit di Linux Torvalds che va a modificare degli spazi in tab rendendo evidente un problema sul parser di kconfig però in realtà è un cambiamento secondo me abbastanza significativo non tanto per il kernel Linux ma per le modalità di interazione tra Linux Torvalds e i contributor al kernel cioè in questo momento lui poteva uscirse pubblicamente massacrando e anche usando molto sarcasmo contro il contributor che ha scritto quel commit e invece ha voluto usare un approccio diverso ha voluto scrivere un commit lui stesso rendendo evidente un problema e suggerendo di guardare meglio all'irrobustimento della soluzione insomma ci aspetta una nuova era di un Linux Torvalds molto più pacato e tranquillo e collaborativo con i contributor di Linux kernel non lo so però intanto questo potrebbe essere un primo passo vi lascio due link come sempre il primo è sempre in tema perché è un'intervista fatta proprio a Linux Torvalds la trovate su The Newstack vi lascio naturalmente i link in descrizione è interessante perché qui c'è Linux Torvalds all'open source summit che c'è stato proprio in questi giorni e conversa appunto sul palco parla di security di hardware di AI insomma questo è un po' un riassunto della news in realtà dell'intervista in realtà però è abbastanza interessante vi consiglio di leggerla e poi vi consiglio questo progetto si chiama PubKit è un progetto per chi è interessato al fediverso quindi tutto quello che ruota attorno al protocollo activity pub quindi Mastodon PixelFed eccetera eccetera ecco questo tool si chiama PubKit ed è stato creato proprio dai creatori di PixelFed PixelFed è semplicemente una specie di alternativa a Instagram però per il fediverso quindi per activity pub e questo è un tool kit con vari strumenti che vi consentono di creare e debuggare dei vostri server activity pub dei vostri progetti activity pub perché si tratta naturalmente di creare del codice delle applicazioni che creino dei messaggi o leggono dei messaggi con questo protocollo ma naturalmente ci servono tool per debuggarlo per creare dei dati finti per provare a leggerli oppure per usare dei finti client che leggono i nostri messaggi prima di mandarli davvero in produzione insomma tutto quello che siamo abituati a fare con lo sviluppo classico del software in activity pub mancava un tool come questo adesso inizia ad arrivare perché siamo alle prime fasi diciamo tra l'altro c'è ancora una waiting list una beta da aggiornare ecco però potrebbe essere un tool che aiuterà lo sviluppo di applicazioni in questo universo insomma nel fediverso quindi io ve lo segnalo se vi interessa provare a programmare su protocollo activity pub secondo me dovreste mettervelo un attimino da parte aspettare o magari entrare nella beta nella waiting list aspettare che sia rilasciato perché poi questo potrebbe essere proprio uno strumento che vi aiuta enormemente a sviluppare il software ho finito qui grazie per avermi ascoltato anche oggi noi ci vediamo a una prossima puntata del Buongiornissimo con altre news sul nostro meraviglioso mercato IT ciao ciao ciao